Francesca Fagnani con una stilettata accuminata manda al tappeto Melissa Satta, sua ospite a Belve, nella puntata in onda su Rai 2 martedì 24 ottobre. Ma si proceda con ordine. La showgirl Sarda ha prima parlato della sua situazione sentimentale attuale. Quella vissuta assieme all'asso del tennis italiano Matteo Ber, dopodiché ha lanciato una stoccata. Anzi una bordata. Alla collega Paola Ferrari. Che in tempi non sospetti le ha dato della donna stereotipata a proposito del suo modo di essere partecipe nella trasmissione calcistica Sky Club Calcio. Infine il graffio della Fagnani. Arrivato dopo che ha posto una domanda un da quando sta con Berrettini. La satta è stata raggiunta da una marea di critiche. Diciamolo. Ingiustificate. A scatenare gli haters la coincidenza relativa al fatto che il tennista. Proprio da quando ha iniziato la love story. Ha avuto un drastico calo a livello di gioco. Passando dalla sesta alla 63 gradi posizione del Sono una donna esposta. Ogni tanto serve trovare il capo espiatorio. Il commento dell'ex velina a proposito degli attacchi ricevuti. Fagnani ha ricordato che a punzecchiare il compagno ci sono state anche figure dell'ambito sportivo. Come ad esempio Nicola Pietrangeli. Quest'ultimo ha difeso la showgirl. Ma ha attaccato Berrettini. Se Berrettini è in crisi nera non è colpa di Melissa satta. Matteo gira troppi spot. Perde tempo e deve riflettere sul gioco. Replica di Melissa. Sono tutti mister. Se uno è un personaggio a 360 gradi. Magari ha anche dei doveri da rispettare. Verso gli sponsor. Verso gli accordi. La professionalità non viene esclusa da altro. Cioè. Uno deve vivere.